Ciao ragazzi e benvenuti nel quinto episodio della serie su C-Sharp. Oggi vediamo cosa sono le costanti e a cosa servono. Una costante è una variabile immutabile che dal momento in cui viene compilato il codice non cambia valore per tutta la vita del programma. Rimane appunto costante. Le costanti sono utili quando non vogliamo che altre persone o noi stessi non sovrascrivano il valore di alcune variabili. Per fare ciò ci basta utilizzare la keyword const davanti alla dichiarazione di una variabile. Facciamo un esempio, dichiariamo una variabile double p che sta per pi greco che è uguale a 3.1415 che sono le prime cifre del pi greco e non ci dimentichiamo del punto e virgola. Dichiarandola in questo modo, avendola dichiarata in questo modo qua sotto potremmo riassegnare un nuovo valore alla nostra variabile quindi p uguale a meno 145.3 ad esempio. Poi mettiamo un console brightline in cui stampiamo il valore di p e come vedete ci verrebbe stampato l'ultimo valore. Questo però crea dei problemi di sicurezza nel codice. Siccome la variabile p non deve cambiare di valore dato che è sempre lo stesso siccome ovviamente pi greco è una costante in questi casi è molto utile dichiarare la variabile come costante. Aggiungiamo quindi la parola chiave const davanti in questo modo quindi diventa const double p uguale a 3.1415 e immediatamente noterete che ci dà un errore nella riga sotto. Se andiamo sopra con il mouse ci viene detto che non è possibile assegnare un nuovo valore alla nostra variabile p quindi andiamo a cancellare questa riga di codice ed ora in poi per tutta la durata del programma il valore della variabile p non potrà cambiare dando più robustezza e sicurezza al nostro codice. Ovviamente avviando il programma ci viene stampato il valore corretto quindi il valore della nostra costante. Bene per qualsiasi dubbio o domanda lasciate un commento e noi ci vediamo nel prossimo video.